ETA Italia Buonasera, Marzio Bonanumi, responsabile commerciale per ETA Italia, prodotti in autica. ETA è una multinazionale, con sede in Germania, abbiamo 4 siti produttivi nel mondo, oltre a varie filiali. In questa fiera presentiamo PowerPlex, che è il protagonista del nostro sistema distribuito. Si tratta di un componente che alimenta e prende informazioni da 8 canali, programmabile, ci permette di realizzare i nostri impianti distribuiti, insieme ad altri componenti. Il componente è unico, con qualche variante. Il Compact, che è di derivazione automobilistica, permette di fare esattamente la stessa cosa, un po' meno performante, sempre sul proprio colloquine. E la parte AC, che è un po' la novità che presentiamo quest'anno. Quindi siamo in grado di gestire tutte le utenze AC e tutte le utenze DC, per barche fino a 24-20. Gestiamo tutto. Quindi gestiamo tutto. Da quest'anno siamo in grado, in realtà, non è proprio una novità, diciamo che il produttore è pronto per essere accettato, diciamo maturo ormai. E siamo in grado, oggi, di gestire tutte le utenze di Word, in corrente continua, in corrente alternata, avendo anche la possibilità, o la flessibilità, di integrare componenti di altre macchie. Essendo il CAN, un protocollo molto flessibile anch'esso, integriamo Master Bus, quindi componenti di Master Bus, integriamo G1939, integriamo NMEA 2000, quindi sensoristica, navigazione, provenienza oltreoceano. Un sistema completo, distribuito e pronto per il mercato. Grazie.